C'è il derby, però volevo dire una cosa a Leandro che non si deve preoccupare sugli ascolti che è una bellezza. E che è una bellezza, infatti ma sa condurre benissimo anche il radio e quest'oggi. Va bene, ci provo, quando torno a casa in Uruguay ci provo a fare un po' di radio e televisione. E quest'oggi non abbiamo parlato né di ricette né di niente, però possiamo fare tipo lo proprio del cuoco, sai? No, ma io mi fai sembrare che sono un cuoco di alto livello, io prendo lì delle ricette e ci provo. Allora diciamo l'ultima chicca, da dove prendi queste ricette? Dal? No, dalla pasta, dalla varilla, quindi... Le ricette che sono dietro, le scatole della pasta. Assolutamente. E le provi. Però mi vengono bene, quindi... No, qualche ricetta anche tipo la nonna di Mocavero mi ha detto fa così cosa e io ho fatto. Ti daremo una guida gastronomica del nostro editore. Che ne sa una cifra di vini e di gastronomia e ringrazio veramente tutti voi. Ringrazio anche Massimo Di Bello, ringrazio... La regia di Ostuni e quindi Leonardo Semerano, Michele Marchitelli, sotto la tetta regia di Giuseppe Recche che ha realizzato le clip che avete visto questa sera. Li volevi salutare anche tu, Fabio? Sì, saluto gli amici perché li conosci. Li conosci. Vi ricordo gli appuntamenti sportivi con TRCB, con Cristina Cavallo, giovedì sera, con Dallo Stadio allo Studio, con il football 1912 alle ore 21, ma poi anche lunedì con Ede Gol, sempre alle ore 21 per parlare di calcio della Serie D e anche dell'eccellenza. La retica di questa puntata, giovedì alle ore 23.10, tutte le puntate sono raccolte su www.tempisupplementari.com. Noi ci ritroviamo martedì prossimo, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Grazie a tutti.